Le richieste di aiuto e i comunicati stampa dei sindacati su licenziamenti annunciati arrivano nelle redazioni giornalistiche ogni giorno. Ogni grido d'allarme riguarda un pezzo della già sofferente economia della città che rischia di sparire. E i licenziamenti adesso toccano un settore letteralmente di vitale importanza e non soltanto per l'economia. Sono i servizi sociali a rischiare la paralisi. Il commissario del Comune Luigi Croce lo aveva già annunciato durante la conferenza stampa dello scorso 12 novembre. Il Comune non può assumere nessun impegno per l'anno 2013. Cioè a dire tutti i contratti che vanno a scadere entro quest'anno e che dovrebbero essere rinnovati per l'anno 21. Faccio un esempio, servizi sociali. Il Comune avendo sforato il patto e non avendo un bilancio di previsione non può bandire nessuna gara. Significa che i posti di lavoro a rischio sono centinaia ma l'emergenza questa volta rischia di colpire le fasce sociali più deboli. Gli anziani, portatori di handicap, rischiano di rimanere senza assistenza. Niente più mensa nelle scuole, un taglio anche ai centri di aggregazione giovanile, punti di riferimento di fondamentale importanza nei quartieri. Misure correttive all'economia dissestata del Comune, così come richiesto dalla Corte dei Conti, che però pagherebbero i cittadini e non i politici che hanno provocato questo disastro. Si spera, come ormai da anni succede a Messina, nell'intervento del prefetto. Prima Francesco Alecci, oggi Stefano Trotta. L'obiettivo è evitare un'emergenza sociale, forse senza precedenti.